Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Alessandro Meluzzi si trova attualmente in gravi condizioni di salute a seguito di un'ischemia cerebrale che ha colpito lo psichiatra sabato 2 dicembre nel suo studio a Cesena. È stato immediatamente ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Bufalini della città, come riportano i media locali. Al momento, secondo gli ultimi aggiornamenti, Meluzzi è in rianimazione, trovandosi a due giorni dal ricovero. Sebbene le sue condizioni restino gravi, si segnala una stabilità. Un noto giornale informa che è stato un paziente dello psichiatra a segnalare alle 15 un malore nell'ambulatorio di via Tripoli a Rimini, scatenando l'intervento dei soccorsi. In seguito al malore, Meluzzi è stato trasferito rapidamente alla neurochirurgia del Bufalini, dove è stato immediatamente sottoposto a un'operazione d'urgenza. Attualmente, Meluzzi rimane in rianimazione, in attesa di miglioramenti. Si attendono aggiornamenti decisivi nelle prossime 24-48 ore, come comunicato da fonti mediche. Lasciate un messaggio di incoraggiamento a Meluzzi e iscrivetevi al canale. Grazie.